Il prezzo delle materie prime alle stelle continua ad aumentare nell'edilizia, accade per l'acciaio che aumenta del 130% ad esempio, ma anche rame e petrolio. A lanciare l'allarme è stata anche Confindustria, nel cantiere più grande d'Europa, l'Aquila. La problematica è, se possibile, ancora più evidente. Le associazioni di categoria parlano di aumenti indiscriminati che incidono negativamente sul mercato, bloccando linee produttive. Un aumento è iniziato nell'ottobre del 2020, ma la situazione è peggiorata nel primo trimestre del 2021 e cantieri pubblici e privati rischiano di bloccarsi. Sul tema è intervenuto anche il delegato di Confindustria per l'area aquilana, Ezio Reinaldi. È allarmato sicuramente il sistema paese. Sicuramente qui però all'Aquila si ha purtroppo la negatività di risentirne ancora di più all'Aquila, ma un po' il sistema Abruzzo. Noi come aziende del territorio cominciamo ad avere una grandissima difficoltà nel reperire i propri materiali. In primis è il problema del costo, naturalmente. Ci sono stati, abbiamo denunciato, aumenti del 130% dell'acciaio e ogni giorno aumentano. C'è un atto, una grande speculazione. E questo è un problema su molti materiali, tipo l'acciaio, le lamiere, il legno, il rame. Cioè sta diventando un problema serio per tutte le aziende che lavorano e che in particolare qui nel territorio, però soprattutto sulla ricostruzione. Per Reinaldi è necessario un intervento del sistema paese, perché oltre al costo spropositato dei materiali, c'è anche il problema dei materiali che non si riescono proprio a reperire. Su questa vicenda anche diversi politici sono intervenuti, compreso l'onorevole Demma Stefania Pezzopane, che con altri 15 parlamentari ha già presentato un'interrogazione per denunciare l'aumento da mesi dei prezzi dei materiali per l'edilizia. Al di là del costo è proprio anche questo un problema. Se oggi uno vuole ordinare una copertura, un tetto in legno, un determinato prodotto, l'azienda non lo fornisce e non lo fornisce in tempi sicuramente brevi. Il sistema paese e l'Italia su questo deve cominciare a prendere provvedimenti. So che qualche politico ha cominciato a fare qualche emendamento e credo che soprattutto qui a livello territoriale dobbiamo sensibilizzare ancora di più l'argomento.